Guida celeste si scostò dal cannocchiale. È indubbiamente la stessa stoffa, a mise. Rossa, a fiori. Ed è un po' strano che si trovi sui vestiti di mezzo villaggio e sul timone di una nave alla deriva, non ti pare? Guardarono la barchetta di Dragodoro. Ormai era due terzi del percorso. Ancora poco e sarebbe arrivata alla giunca. — Dobbiamo fermarli, disse Yu. Se gridiamo, forse ci sentiranno. Sono troppo lontani ormai. Guida celeste riflette un istante, poi chiamò. — Gigante di pietra! Il colosso, che come tutti stava guardando la scena dalla spiaggia, si avvicinò a passi lenti e pesanti. — C'è un'emergenza, disse Guida celeste. Su quella giunca potrebbe esserci una trappola che non conosciamo. Dobbiamo avvertire Dragodoro. Pensi di farcela, prendere una scialuppa e remare fin lì in tempo? Gigante guardò le due barche. Riflette un secondo. Annui. — Allora fallo. Subito. Yu non capiva perché Guida celeste avesse scelto proprio Gigante di pietra. Quell'uomo aveva senz'altro una forza straordinaria. Bastava vedere la catena che si portava addosso come vestito, ma non sembrava certo un campione di velocità. — Vai con lui, le ordinò Guida celeste. Sbrigatevi. Sul fondo della spiaggia stavano allineate le barchette dei pescatori. Gigante di pietra ne scelse una. La sollevò con una mano sola come se fosse il baccello di un fagiolo e la mise in acqua. Poi iniziò a srotolare la catena che gli stava addosso. Liberò un braccio, il collo e il torace. Il secondo braccio scese giù fino allo stomaco. Infine le gambe. Rimase completamente nudo e juvide che aveva il corpo pallido, segnato di cicatrici rosse nei punti in cui la catena sfregava le carni. Il mucchio di metallo rimasto sulla spiaggia era impressionante. La ragazzina si avvicinò e provò a sollevarla, ma quell'arnese era così pesante che non riuscì ad alzarne un solo anello. Gigante di pietra afferrò due remi, uno per mano, salì sulla scialuppa e la guardò. «Scusa», disse Yu, «arrivo subito». Saltò a bordo e si sistemò a prua. Gigante affondò i remi nell'acqua. Allora la scialuppa saltò letteralmente fuori dal mare come un delfino in volo. Yu inghiottì una boccata di spuma salata. Non era pronta al contraccolpo e rischiò di cadere fuori bordo. Si aggrappò disperatamente al tagliamale della barca, mentre la scialuppa sbatteva violentemente di nuovo contro l'acqua e di nuovo un colpo di remi la rispedì per aria, imprimendole una folle velocità di tornado. Liberato dal peso impossibile della sua catena, i muscoli di gigante di pietra spingevano sui remi con forza spaventosa da far scricchiolare il legno. «Speriamo di arrivare in tempo», pensò Yu. «Speriamo di arrivare in tempo». La barca di Dragodoro era quasi alla giunca. Yu vide tigre blu ammainare l'unica vela, mentre piccola furia stava per gettare un rampino e iniziare la scalata. Yu mise le mani a coppa davanti alla bocca per gridare, quando scimmia pazza si accorse di lei. Disse qualcosa e tutti si voltarono verso Riva. Videro finalmente la gente che si sbracciava e la piccola barca a remi che schizzava sull'acqua, creando due ali bianche di schiuma. Drago d'oro manovrò la scialuppa per evitare che quella di gigante ci si schiantasse contro. «Si può sapere che succede?» Yu ansimava come se avesse appena finito una lunga corsa. Lo sguardo stupito di tigre blu le bruciava addosso. «C'è qualcosa che non va», spiegò. «Ho visto col cannocchiele di guida celeste. C'è un drappo rosso e argento legato al timone». Piccola furia si grattò il mento. «Strano», commentò. «Se non sbaglio molti pescatori del villaggio sono vestiti in quei colori». «Esatto. Perciò questa giunca non è alla deriva. Qualcuno del villaggio ha legato il timone, perciò...» «Una trappola», capì Dragodoro. «Ossospezzato deve aver corrotto uno dei pescatori». Piccola furia fece un inchino. «Lasciami andare in avascoperta. Terrò gli occhi aperti. Sei sicuro che sia una buona idea? Fidati di me. Tornerò in un minuto. E se non dovesse succedere, allontanatevi dalla nave per precauzione». Il nano lanciò il grappino. Poi si isso sulla giunca a forza di braccia, nonostante i due martelli che portava sulla schiena. Una volta arrivato in cima, fece un cenno di saluto e sparì. Il tempo sembrò passare con una lentezza esasperante. Yu continuava a fissare tigre blu. I suoi occhi erano attratti da lui come una falena dalla luce. E sentiva il battito sordo del cuore che scandiva i secondi. Uno. Due. Tre. A un tratto dal ponte della giunca arrivò un urlo rauco. Poi un grosso barile volò oltre il parapetto, accompagnato da una lunga scia di fumo. Finì in acqua a poca distanza dalla scialuppa. «Che succede?» gridò Dragodoro. Piccola furia si affacciò dalla murata. «Qualcuno ci aveva fatto una bella sorpresa», annunciò. «La stiva è piena zeppa di barili di polvere nera. Erano tutti collegati alla stessa miccia. E ovviamente la botte che sarebbe esprosa per prima era quella più in fondo. Se non fossi stato così allerta, non me ne sarei mai accorto in tempo. E ora di noi resterebbe soltanto un mucchio di carne trita». Dragodoro sbuffò. Poi si voltò verso Yu e brontolò un grazie. Ora che il pericolo era scampato, salirono tutti a bordo del peschereccio. Era una giunca vecchiotta e dato che doveva essere sacrificata l'avevano spogliata di tutto. Vele, cannoni, ganci e corde. Però teneva bene il mare. La legarono alla scialuppa di gigante e quello, remando, la rimorchiò fino a riva. Una volta lì Dragodoro fece radunare tutti gli abitanti del villaggio e giurò che li avrebbe uccisi uno alla volta finché non fosse saltato fuori il colpevole. Dalla fila di gente tremante, cade in ginocchio un giovane di vent'anni. Confessò che alcuni giorni prima era stato a Macao, dove degli uomini gli avevano affidato la giunca e tre lingotti d'oro per il disturbo. Aveva nascosto la nave in una cala nascosta. Poi quella mattina l'aveva portata in mare. Aveva acceso la miccia e bloccato il timone. Si era tuffato ed era tornato a nuoto fino al villaggio. Tutto molto semplice, ma nella fretta aveva dimenticato di portare con sé una corda e aveva dovuto arrangiarsi con la sua camicia rossa. Una piccola distrazione che gli era costata cara. Non sapevo che volessero uccidere qualcuno, piagnucolò il giovane. Mi avevano detto che la nave sarebbe esplosa in mezzo al mare. Era solo un avvertimento. Dragodoro si voltò verso bocciato agli esami. Prendi questo farabutto, ordinò, e taglialo a pezzi. Yu non voleva assistere a un simile spettacolo, perciò si allontanò verso la spiaggia, dove Gigante di Pietra si stava ancora rivestendo della sua enorme e pesantissima catena. Grazie, gli disse. Gigante sorrise. Ehi, ehi, ranocchietta! Abbondanza le corse incontro agitando le braccia ossute. Mi hanno raccontato cosa hai fatto. È incredibile. È stata fortuna più che altro. Tu non ti rendi conto. Hai salvato la vita a Dragodoro. Ora lui ti è debitore. Non l'ho fatto per essere ricompensata, disse Yu. Questo non importa. Scommetto che Dragodoro ti chiederà stanotte stessa cosa desideri. E pensaci bene, perché potrai chiedergli qualunque cosa in cambio. Qualunque cosa. Yu si sentiva esausta e svuotata. La condanna a morte del pescatore le aveva lasciato un senso di malessere nel petto. Quell'uomo aveva tradito e la morte era l'unica punizione possibile. Allora perché si sentiva così triste? Si allontanò dal villaggio e si addentrò tra i boschi, lungo un piccolo sentiero che si inerpicava per la montagna. Pensò a chi era, a chi era stata, a cosa voleva diventare. Quando tornò al villaggio era ormai buio. Abbondanza aveva costruito una griglia sulla spiaggia e messo dei pesci ad arrostire. Alcuni eroi stavano riuniti davanti al fuoco aspettando che fosse pronta la cena. Dragodoro era con loro. Non appena vide Yu si alzò in piedi. Allora ragazzina, disse, devo ringraziarti perché oggi hai salvato la mia vita e quella dei miei uomini. Secondo la legge dei pirati chiedo di poter saldare il mio debito. Dimmi quello che vuoi. Yu a noi. Era pronta. Non l'ho fatto per avere un premio, mormorò, ma se vorrai darmelo non rifiuterò. Hai già pensato a cosa desideri? Yu prese un bel respiro, si fece avanti nel circolo dei pirati, alla luce del fuoco ed esclamò, Dragodoro, io voglio la giunca che abbiamo salvato oggi e voglio un equipaggio per portarla per mare. Nessuno si aspettava una richiesta simile. Abbondanza lasciò cadere il coltello con cui stava rigirando il pesce. Tutti si voltarono verso di lei. I denti di Dragodoro scintillarono in un ringhio selvaggio. Una giunca e un equipaggio. Mi stai dicendo che tu, ragazzina, vuoi prendere il comando di una nave? È così, rispose Yu. Voglio diventare una comandante pirata. Grazie. 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 Grazie.